Siamo tutti interessati ad accelerare il più possibile l'immunizzazione della maggioranza dei siciliani, almeno 75-80%, però come sapete non si può autonomamente procedere all'acquisto di un vaccino che poi non può essere somministrato, perché non c'è la relativa autorizzazione. Quindi la volontà che ha già espresso il collega Zaia, noi l'abbiamo espressa da 5-6 giorni, ma siamo in attesa di capire se da parte dell'agenzia del farmaco e dal governo arriva l'autorizzazione verso un vaccino piuttosto che verso un altro. Qualora questa disco verde dovesse arrivare non avremmo difficoltà a procedere all'acquisto, anche se come sapete stiamo continuando a somministrare Pfizer e Moderna e ormai siamo sul punto di somministrare anche AstraZeneca, seppure per una fascia di popolazione diversa dagli opere 80 per i quali stiamo già lavorando con le prenotazioni che vanno a buon fedele. Grazie. Grazie. Grazie.